Ciao, eh! Ah! E dov'è che vanno queste belle melanzane? La giovani rana? Ma chi? Quello di tortellini? Ma sì, lui! Ma cosa c'entra le melanzane coi tortellini? Dai, vieni qua, fai vedere la bolla! Eccolo, Giovanni rana, proprio quello dei tortellini! Ma li avete mai assaggiati i suoi tortelli alle melanzane? Tortelli alle melanzane? Sono quelli di Giovanni rana! Grazie a queste scaglie di sapone, ho fatto felice mio marito! Perché Ava è riuscita dove altri mi hanno delusa, sulle macchie della sua maglietta preferita! Visto? Avete capito chi è mio marito? Gianni Morandi! Ava, il pulito smacchiato! A tavola! A tavola! La mortadella! È il cuore di paese! Gustosa come piace a papà! È digeribile! E la mangia ogni volta che vuoi! È molto delicata! E per te? Un cuore grande! E finalmente so cosa compro, perché ogni fetta è firmata col cuore! E chi compra col cuore non sbaglia mai! Mortadella, cuor di paese! È solo Ibis! C'era una volta Luca! Luca io! Proprio tu! Luca, vieni nella tua tavola! Oggi c'è un libro unico scritto apposta per il tuo bambino Con poche prove d'acquisto te lo regala Pampers Proprio tu! Con Soleilibra sono libera di godermi il sole in totale sicurezza. La sua pura dermomelanina garantisce alla mia pelle una protezione su misura e un'efficace azione antifreddo. Soleilibra per un'abbronzatura sicura e splendente. Grazie a queste scaglie di sapone ho fatto felice mio marito perché Ava è riuscita dove altri mi hanno delusa, sulle macchie della sua maglietta preferita. Visto? Avete capito chi è mio marito? Gene Morandi? Ava, il pulito smacchiato. Il mezzo non c'è! Eccosi! Dall'esperienza delle cliniche di bellezza, Clinians. Clinians presenta... Passate bene le feste? Sono state abbastanza... Paperate? Niente paura perché i festeggiamenti continuano e le papere pure. Per tutti i vip, i viponi, i più noti, i meno noti e del tutto ignoti non c'è scampo. Paperissima è sempre in acquato con gli esperti a Chiappapapere, Columbro e Coccarini, Angela Cavagna e la banda di Gomma Tiuma. Paperissima di Antonio Ricci. Eccezionalmente solo per questa settimana di giovedì, cioè domani alle 20.40. Canale 5. Da Biopresto in arrivo, in tre colori, l'esclusivo raffinato Beauty Case. È in regalo con tre fustini o quattro micro. Buon viaggio con Biopresto! SineCod calma la tosse. Se la tosse persiste, consultare il medico. Intima Roberts, ho detto tre volte sì. Sì, deterge delicatamente. Sì, previene le irritazioni. Sì, protegge l'equilibrio della flora batterica. Ogni giorno, Intima Roberts, agli estratti naturali di camomilla e malva. Tre volte sì. Intima Roberts, intimo benessere. Selezione ha distribuito premi per oltre 11 miliardi a più di 100.000 vincitori. L'ultimo è il signor Mariotti di Livorno. Il prossimo potrebbe essere lei. Risponda subito. Sembra fatto apposta per me. Oggi l'ineseta ultra, ultra sottile, ultra assorbente e anche nel tipo lungo con ali. Ideale per flussi intensi. È l'inesa. Per questo l'ho usato anche di notte. È fantastico. Certo, a volte una lunghezza normale non basta. Per questo è stato allungato. Per darti su una superficie più lunga tutto l'asciutto e il pulito del filtrante seta. Linee seta ultra, tipo lungo con ali. E addosso senti solo asciutto e pulito. Grande fiera del bianco alla standa. Ti aspettano tantissimi sconti sulle lenzuola e sulla spugna. Fino al 50%. Ed un 3x2 nuovo, con 3 prodotti a tua scelta. Ma non basta. Se spendi 50.000 lire nella teleria, riceverai 50.000 lire in buoni acquisto da spendere in tantissimi repatte. Ogni giorno di più. Quando sei raffreddato, rinazzina spray nasale. Libera il tuo naso. Evitare l'uso prolungato. Innocenti presenta. Solo innocenti è. L'auto che aspettavi perché. Che sia Milio, che sia Elba. Questo lo decidi tu. E l'acquisto conviene ancora di più. Perché innocenti è. Molto di più. Niente di più. Fino al 31 gennaio, Mila ed Elba Innocenti vi permettono di scegliere come risparmiare. Con 2 milioni di supervalutazione sull'usato o per il vostro usato da rottamare. Oppure con 10 milioni di finanziamento in 30 mesi a interessi zero. Grazie, innocenti. C'è un solo filo che fa la differenza. È il filo di Filo d'Oro. Mi chiamano Trinità. La mano destra del diavolo. Chi è quell'ombra, signore? La mano sinistra del diavolo. Bud Spencer, Terence Hill, cuori rudi, modi crudi. Amicizia ed avventura. Nel West. Più forte, folle e simpatico al di qua e al di là del Pecos. Lo chiamavano Trinità e continuavano a chiamarlo Trinità venerdì e domenica 20 e 40. Canale 5. Dalla natura, in tante specialità, i funghi Montello hanno un gusto che appassiona. Ricette già pronte, tutte da provare. E ogni occasione a tavola diventa un complimento. Montello, la passione per i funghi. La canzone napoletana oggi, come sempre, si ascolta col cuore. La canzone napoletana, in edicola fascicolo e cd a 4.900 lire, con cassetta a 2.900 lire. Zapp Caffè, impossibile resistere. 1-4-4-1-4-1-4-1-4. E Zapp Caffè, 1-4-4-1-4-1-4-1-4. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle. Dai più sapore alla tua vita con Crack Snack Pavesi. Il nuovo snack con la leggerezza del riso, le proprietà della soia e il gusto del sesamo. Crack Snack Pavesi, un gusto tutto nuovo per dare più sapore alla tua leggerezza. Pavesi, per gente piena di vitalità. Con Raccoltissima Star raccogli i punti dalla mattina alla sera. Comincia i colazioni. I punti vanno su. Arriva a mezzogiorno. I punti vanno su, su. Dal tè del pomeriggio. Al sapore della sera. I punti vanno su, su, su. Persino nella notte, un punto dopo l'altro, è subito... Raccoltissima! Con Raccoltissima Star, nuovi regali. La collezione dei maestri incisori e le nuove porcellane dei maestri bavaresi. Un punto dopo l'altro è subito... Raccoltissima! Star è sempre con me. La natura non manca mai a un appuntamento. Fate lo stesso anche voi. Con la marmellata lassativa tutta naturale, tamarine. Una buona regola. È un medicinale usare con cautela. Adesso cuccia. Ciao Kaori, volevo ridarti questo. Ah, i miei libri. Ciao Luca, mangi con noi. Formaggio e verdure. Grazie, ma dovrei... Neanche se è Philadelphia. Morbido, fresco, cremoso. Il gusto di Philadelphia è così unico, ma così unico che... Philadelphia, così unico da dimenticare tutto il resto. Kraft, cose buone dal mondo. Ma non dimenticare che questo prezioso servi formaggio in silver plate con campana. Lo puoi avere in regalo raccogliendo i punti su tutte le confezioni di Philadelphia. Dietro, per piacere. Per piacersi. Cirio, la passata rustica con tutto il sapore della natura. Così genuina e polposa come quella fatta in casa. L'unica che raccogli con la forchetta. Passata rustica Cirio. Come natura crea. Riscoprire la bellezza è un'arte antica. Oggi con la scuola di antichità e restauro quest'arte è nelle vostre mani. Con il prezioso campionario dei legni e la novità del primo corso di restauro in video. A scuola di antichità e restauro. In edicola la prima uscita. Fabri Editori. 750 milligrammi di vitamina E. La nuova crema antirughe Venus. Che vi presenta? Gira la ruota! Gira la ruota. Con sé porta fortuna. Diventa d'oro e si fa tre per una. La ruota gira per grandi e per piccini. Pronti a giocare con Mike e i suoi lustrini. Gira la ruota. Porta con sé una fata. Per regalarci una grande serata. Dal 12 gennaio per tre settimane ogni giovedì sera. L'appuntamento è con Mike e la ruota d'oro. Miei pro di cavalieri. Che succede? Rimettimi dentro! Rimettimi dentro! Allora eri tu a darmi tanti calci nella pancia. E tu sei quella che mangiava tutta quella roba piccante, eh? Mamma mia! Mi piace, eh? Michi ha bisogno di un padre. Chiesto citrullo? Voglio che sia tu il mio papà. Anzi, lo dico a mamma anche. Che cos'è? Ti credi abbastanza responsabile per essere un padre? Guidare. Così si chiama. Michi! Michi! Diciamoci la verità. Sta cosa di guidare è facile. Io me la cavo alla grande. Senti chi parla. Sabato 20 e 40. Canale 5. Dietorelle. Perché arrabbiarsi? Noi della Ricordi abbiamo già insegnato a 200.000 persone in Italia a suonare il pianoforte con suono subito. Il corso che ti fa suonare sin dalla prima lezione. Con i fascicoli, le cassette, il video e il segnatasti. E sarai premiato? Con un favoloso pianoforte! Da Ricordi ne dico la 2.900 lire suono subito. Fabri Editori presenta Cine Collection, il grande cinema di oggi. Robin Hood, Lezioni di Piano, 2013 La Fortezza, Il Tagliaerbe, Sand of a Woman, i film degli anni 90 a casa tua in una splendida raccolta. Per la prima volta in edicola Robin Hood e Sand of a Woman, due film in eccezionale offerta a sole 24.900 lire. Fabri Editori. Sul gusto di Trident ci puoi sempre contare. Trident, chewing gum senza zucchero. Quando il gusto è tutto. Dedicato a chi mangia fuori casa. Pasta del Capitano, formule dedicate alla nuova igiene orale. Grande fiera del bianco alla standa. Ti aspettano tantissimi sconti sulle lenzuola e sulla spugna. Fino al 50%. Ed un 3x2 nuovo, con 3 prodotti a tua scelta. Ma non basta. Se spendi 50.000 lire nella teleria, riceverai 50.000 lire in buoni acquisto da spendere in tantissimi reparte. Ogni giorno di più. Più gustò di burghè. Messo no, messo no, ti do. Ne mangio mille al giorno, vuoi sapere perché? Sei tutta naturale, niente è meglio di te. Tata, tata bu. Sono naturale, io mi chiamo tabù. Hai poche calorie, giuste giuste per me. Mi arrabbia se mancassi, se non fusi con me. Tata bu. Stiamo per arrivare. E siamo sempre noi. Biberon. Creme caramel. Saluti e paci. Bucce di banana. E adesso, champagne. Sabato, champagne. Mille bollicine. Mille spruzzi di follia. Da fuori o resto in casa, ma sempre in allegria. Fai il tappo che salta e porta via. Tagliella, i guai e danno strampo. Adiamo soleriva. Allora d'accordo. Sabato, 14 gennaio. Questa volta su... Canale 5, champagne. Un programma con le bollicine. Però te la puoi anche andare a riprendere, se te ne è rimasta ancora la forza. Tozzi, Mario, bancari. Ma se la terra scotta... Dove credi di andare? E l'aria si riscalda? Messico, ole. Margarita e cucaraccia. Prima fuga, ultima spiaggia. Per Gaglioffi Manigioni. Vai! No, 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 no! Maestri inesperienti. Campioni, mordi e fuggi. Abba Tantuono. Golino, Visio. Nel colorito Messico di Gabriele Salvatores. In Prima TV, quarto e scondido. Lunedì 20.40, canale 5. Olsmentoliptus è la caramella ai vapori balsamici buona per il naso. Buona per la tosse. Per la voce. E non solo. Olsmentoliptus. Chi la vuole, sa perché. In ogni confezione di camomilla filtrofiore Bonomelli, subito per te il portafoto in silver plated. Con tutto l'affetto che solo Bonomelli da sempre ti dà. Bellissimo colpo di Lotti. Grande risposta di Mannone. Partito. L'arte del biliardo. Il primo corso di biliardo a fascicoli e videocassette diretto dai grandi campioni. Per rivedere le partite più spettacolari e imparare grazie a riprese rafficinate, a spiegazioni dettagliate dai maestri e alle guide elettroniche. L'arte del biliardo. E ne dico dalla prima uscita a sole 4.900 lire. In collaborazione con Tele più 2. Una grande proposta di Agostini. Cellulite, sovrappeso, diete, creme di bellezza. Come orientarsi nelle scelte? Con Silhouette Donna. Sì, Silhouette Donna ti aiuta a vivere in armonia con il tuo corpo. In questo numero. Cellulite, le nuove cure con gli ultrasuoni e come combatterla con i fiori e l'argilla. Misure ideali per ogni tipo di donna. 10 metodi sicuri per ottenerle. La dieta dopo i giorni di festa. Ringiovanire gli occhi quanto costa. Dimagrire con l'acopuntura. Silhouette Donna. Per piacere a te stessa. Per piacere agli altri. Dietro. Per piacere. Sul gusto di Trident ci puoi sempre contare. Trident, chewing gum senza zucchero. Quando il gusto è tutto. Come va il mio malato? Meglio. Ai primi segni di raffreddore o di influenza, aspirina effervescente con vitamina C. Evitare l'uso prolungato può avere effetti collaterali. C'è un solo filo che fa la differenza. È il filo di Filodoro. Su canale 5 dall'11 gennaio, Film Dossier. Film Dossier. Storie scritte apposta per la televisione, ispirate a fatti della vita di ogni giorno. Storie private che toccano temi di pubblico interesse. Drammi familiari che rispecchiano dubbi e conflitti della nostra epoca. Film Dossier. Da mercoledì 11 gennaio, su canale 5. Dal laboratorio mobile di ricerca Mentadent. Scusi, hai già lavato i denti? Certo, perché? Trovi per favore questo, se non le spiace. Abbiamo testato su alcune persone, nuovo Mentadent con fluoro e bicarbonato di sodio. Il dentifricio che neutralizza gli acidi, causa principale della carie, e ristabilisce il pH naturale della bocca. Una sensazione mai provata. Mentadent, bicarbonato di sodio e fuoro. Il nuovo modo di combattere la carie. Da una grande realtà tecnologica nasce Hyundai Accent. Da piccola non arrivavo neanche al tavolo. Ma poi con i Kellogg's Corn Flakes, che sono pieni di cose nutrienti. Ora sono grandi e ci arrivo benissimo. Specialmente da quando mia mamma ha ammorbidito le setie. Kellogg's Corn Flakes. Deliziosi fiocchi dorati, tanto nutrienti. Kellogg's Corn Flakes. Carichi di carica. Ehi, qualcuno, mi tira giù! Sfoglia gli album, gli album del ricamo in taglio. Di punto in bianco, tante delicate fantasie. Fresche idee per la casa da realizzare facilmente con le pratiche schede e i grandi decalcabili. Sfoglia gli album, gli album del punto croce. Mille piccole e grandi idee. E i pratici schemi per realizzarle con facilità. E accendere di fantasia tutta la casa. In edicola, gli album del ricamo in taglio e gli album del punto croce. La prima uscita di ogni opera ha sole 3.000 lire. Fabri Editori. Sorreggi lì, aiutali, ti prego non lasciarli cadere. Esidi, fragili, non negarli un po' del tuo amore. Siamo noi gli inabili che pur avendo a volte non diamo. Dimentica, c'è chi dimentica. Distrattamente un fiore, una domenica. E poi... Dedicato a chi deve prendere buone abitudini. Basta del capitano. Formule dedicate alla nuova igiene orale. Se dico Nutella, lei cosa dice? Oh, Nutella. Stavo finendo di consegnare gli ultimi regali ed ero proprio contento quando... Sei stato tu. Nutella è così. Sempre un po' speciale. Anche a Natale. Che mondo sarebbe senza Nutella? Io credo che la qualità della vita influisca sul nostro lavoro. E io lavoro qui, rispettando questo paese, i valori della sua gente e l'ambiente che ci circonda. Anche i miei prodotti nascono qui. Seguono i ritmi di questa valata e respirano aria pulita. Questa è la mia garanzia. Qualità della vita per una miglior qualità di prodotto. Salumi Senfter. Li scegli per la qualità. Li riconosci della campanella. Mitsubishi Pageru. Per passione. Mitsubishi Space Bacon. Per amore. Mitsubishi Space Runner. Per piacere. Quando sono arrivata all'Elida Air Institute, i miei capelli erano fragili e pieni di doppie punte. L'unica soluzione era tagliarle. Per donne come Chiara, oggi c'è lo shampoo nutritivo Dimension Professional. Le sue proteine penetrano il capello e lo rafforzano. E l'abbiamo misurato. 70% di doppie punte in meno. Ora i miei capelli sono lunghi e sani. Dall'Elida Air Institute di Parigi, nuovo shampoo nutritivo Dimension Professional. La nuova bellezza si misura sui risultati. Il vostro giuramento... Il vostro giuramento... Il vostro giuramento... La nuova bellezza si è positivo. Il vostro giuramento... Grazie a tutti.